In questo video vediamo un pratico esempio di sostituzione da una tabella. Qui abbiamo dei vecchi dipartimenti. Questi vecchi dipartimenti verranno trasformati in nuovi dipartimenti e qui abbiamo la nostra tabellina di conversione. Tutti questi vecchi diventano questi. Quindi manutenzione diventa sicurezza scritto abbreviato, sicurezza si abbrevia, magazzino si abbrevia, produzione si abbrevia, laboratorio si unisce a ricerca e sviluppo, quindi se qua c'è scritto laboratorio qui dovremmo scrivere ricerca e sviluppo, quality control e quality insurance diventano quality management, mentre marketing, vendite e direzione rimangono invariati. Allora, questo intanto è un caso reale, come vedi sto nascondendo tantissime colonne, tanto per intenderci non possiamo farlo a mano perché abbiamo, sì e no, 530 righe. Quindi dobbiamo procedere con una funzione. Ora, non so come lo faresti, però metti in pausa e prova a farlo da solo o da sola. Poi riprendi il video. Bene, ripeto, non so cosa tu abbia provato a fare, ma secondo me la cosa migliore è questa. Uguale, indice, apro la mia parentesi e indicizzo questo. I nuovi dipartimenti. Prima di scrivere il punte virgola, premo F4 e blocco tutta questa matrice. Punte virgola, confronta il valore in questa cella, punte virgola, su questa matrice. Anche questa la blocco con F4, punte virgola 0, corrispondenza esatta. Chiudo il confronta, chiudo l'indice, invio. Doppio clic, fatto. Il segreto qua sta solo ed esclusivamente nel bloccare sia la matrice dell'indice, sia la matrice del confronta, premendo F4, che inserirà automaticamente i simbolini del dollaro. Tutto qui. Spero che il video ti sia piaciuto. Se è così, iscriviti al mio canale, perché ne voglio postare molti altri come questo.